Parte oggi un altro pezzo importante del ripascimento del litorale di Salerno con l'avvio dei lavori nel tratto che va dalla palazzina dell'ex preventorio marino di soccorso amico al polo nautico di Salerno. Si arriverà poi con un altro lotto alla foce del fiume Irno e poi alla spiaggia del lungomare Trieste. Si completa così il disegno urbanistico della città di Salerno così come pensato e progettato dall'architettorio Boigas. A presentare l'avvio del cantiere con tanto di pannelli su come diventerà Salerno vista dal mare e il governatore della Campania Vincenzo De Luca che questa mattina con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l'assessore all'urbanistica Mimmo De Maio ha spiegato l'intero progetto. Un sogno che si realizza detto che avrà importanti ricadute turistiche che permetterà di replicare questo esempio di Salerno in altre città della regione Campania. Stiamo cambiando il futuro della città di Salerno con un po' di ritardo ma ci siamo arrivati. parte oggi il lavoro per un altro pezzo del litorale salernitano che viene investito da un progetto straordinario. Rifacciamo la spiaggia da Mercatello fino al polo nautico a Pastena. Si sta completando la progettazione per arrivare poi al fiume Irno e poi a fare la spiaggia davanti a lungomare Trieste. Progetto di valore straordinario che serve a potenziare l'economia del mare, la risorsa turistica della città di Salerno e io utilizzerò questo modello di lavoro per fare un lavoro analogo anche in altre parti della regione, nella città di Napoli. Applicheremo questo modello di trasformazione urbana per cambiare anche altre aree della regione. Sapete che qualche giorno fa abbiamo presentato anche il progetto per il palazzetto e lo sport quindi tutta l'area orientale avrà una trasformazione straordinaria che si completerà poi con l'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano. Due anni e mezzo, tre anni e davvero cambiamo il destino di questa città e di questo territorio. Vengo a ricordarlo a voi puntigliosamente, ha detto Stamani De Luca, perché trasmettiate la memoria ai giovani che non sanno da dove vengono e quanto abbiamo fatto per quell'intervento per il quale abbiamo subito dieci anni di aggressione mediatica da parte di chi continuava a ripetere che stavamo togliendo alla città di Salerno la spiaggia storica di Santa Teresa. Mentre oggi avete avuto modo di vedere che quella spiaggia si è triplicata. Vi ho ricordato le cose che io ho stampate nella memoria da dieci anni, le polemiche strumentali, vergognose, quando abbiamo fatto la spiaggia di Santa Teresa, quando c'era chi diceva che stavamo togliendo la spiaggia storica. Come potete vedere quella spiaggia si è triplicata, quadruplicata e ne faremo un'altra davanti a tutto il lungomare Trieste. Sarà un progetto bellissimo. Ma lasciamo perdere, questo è un problema più vostro, di ricordare, prendete qualche servizio televisivo i dieci anni fa, fatelo rivedere oggi e spiegate che per realizzare questo sogno per la nostra città qualcuno ci ha rimesso la vita. Andiamo avanti perché bisogna guardare al futuro, bisogna avere un solo obiettivo in testa, come dico io, il lavoro. Questo è l'obiettivo per i prossimi mesi anni, il lavoro per i nostri figli. Queste cose servono per creare economia, creare lavoro, creare turismo, altrimenti diventa difficile capire di che cosa dovrebbe vivere questa città e questo territorio. E nel corso dell'incontro di stamani Vincenzo De Luca non si è sottratto alle domande dei giornalisti sull'attuale situazione dei contagi e dei ricoveri per Covid. Abbiamo realizzato in 20 giorni 120 posti di terapia intensiva. Li realizziamo ovviamente in preparazione dell'emergenza. Noi abbiamo realizzato in 20 giorni, come sapete, 120 posti di terapia intensiva. Ancora qualche giorno fa c'è stato un imbecille, un vostro collega sedicente, che mi ha domandato ma voi avete realizzato i posti di terapia intensiva ma sono vuoti. Mi era venuta voglia di dire mettici tua sorella così li riempiamo. Ma si può essere così idioti in questo Paese. È evidente che tu devi realizzare i posti di terapia intensiva in preparazione dell'emergenza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha detto ieri che si aspetta fra ottobre e novembre un'ondata pericolosissima di contagio sul piano mondiale. Ancora in queste ore io non sto facendo la campagna elettorale, sto lavorando per garantire alle nostre famiglie la sicurezza fra un mese e un mese e mezzo. Quindi avremo ancora più posti di terapia intensiva disponibili e completeremo da qui al 24, quando abbiamo deciso di aprire l'anno scolastico, tutti i test sierologici a 140.000 dipendenti delle scuole, personale docente e non docente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.